... Innanzitutto buongiorno a tutti o buonasera, buon pomeriggio, ormai siamo buon pomeriggio. Ma è stata un'esperienza fantastica anche perché è un modo per ritrovarci anche tra di noi, tra tanti ex campioni ma soprattutto anche con gente appassionata del pedale perché nel nostro gruppo c'era veramente tanta gente che non conosciamo ma questa è un'occasione anche per conoscerci. Quindi è stata una bella esperienza, per me è stata la prima volta, ho faticato perché l'allenamento è scarso ma insomma dai, io sono qua ancora per due o tre giorni e quindi avrò modo di apprezzare anche le tappe future. Grazie a tutti! Grazie a tutti!